Ciao a tutti, innanzitutto ci presentiamo, siamo la classe quartelle del liceo Galileo Galilei di Selvazzano Dentro. Noi frequentiamo l'indirizzo linguistico e studiamo inglese, tedesco e spagnolo. Nel mese di novembre abbiamo colto l'occasione di partecipare alla creazione di un progetto di crowdfunding proposto dalla Camera di Commercio. Abbiamo ideato le lingue della speranza con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il lavoro dei ricercatori dell'istituto di ricerca pediatrica della Fondazione Città della Speranza. Con il nostro progetto intendiamo supportare l'associazione contribuendo alla messa a punto di nuovi test di diagnostica avanzata attraverso la tecnologia Archer Fusion Plex necessaria per meglio comprendere i processi biologici che stanno alla base dei tumori infantili. Città della Speranza nasce nel 1994 in ricordo di Massimo, un bambino scomparso a causa della leucemia. Il loro obiettivo è quello di migliorare le condizioni di cura e assistenza per i bambini e favorire lo studio e la ricerca scientifica nel campo delle patologie infantili. Per questo motivo noi studenti abbiamo deciso di dedicare a loro il nostro progetto. In un periodo in cui la preoccupazione generale si riversa sulla pandemia, vogliamo rivalorizzare anche i problemi che purtroppo sono stati ultimamente messi da parte. Volendoci distinguere da altre campagne di raccolta fondi, abbiamo deciso di offrirvi una ricompensa di carattere linguistico-culturale coerente con il nostro percorso di studi. La nostra ricompensa offre la possibilità di imparare o rinfrescare qualche nozione di lingue straniere, tra cui inglese, spagnolo e tedesco. Questo grazie a piccole pillole formative interamente ideate da noi studenti. Ad ogni donazione infatti corrisponderà una ricompensa che va da un semplice ringraziamento via email ad un pacchetto di video in lingua straniera scelta che dipenderà dall'importo donato. Realizziamo insieme questo progetto. Adesso non vi resta che donare. Un grazie di cuore dai ragazzi della Quarta L.